Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Kuna93 Oggi siamo in presenza di un altro vlog Sapete che io non ne faccio tantissimi però questa volta avevo voglia di dirvi due cosucce Due cosucce molto semplici, anzi si due o tre cosucce Giusto semplici semplici che vi volevo far notare Che vi volevo ovviamente comunque sia, volevo condividerle con voi Partiamo subito con la prima ragazzi che mi sono scritto una scalettina diciamo molto semplice Con le nuove intro ragazzi, ho creato nuove intro come avete potuto vedere dall'anteprima Anzi dall'intro che ho fatto per questo video ho cambiato qualcosa Ho cambiato diciamo i colori, i colori che ovviamente secondo me hanno migliorato la grafica Poi ovviamente sarete voi a decidere quale intro scegliere Quindi partiamo subito con la prima intro Per susseguirsi ovviamente la seconda Andiamo pure avanti ragazzi, un altro giro, terza E per finire ovviamente la quarta Adesso che le avete viste tutte e quattro ovviamente scegliete voi quale votare Ovviamente scrivendomi intro, due punti, uno, due, tre, quattro A seconda di quella che avete scelto E prenderò le votazioni di tutti E ovviamente sceglierò quale usare nei prossimi video Magari vorreste che le utilizzassi tutte e quattro Io dirò pure Però io dirò principalmente di incominciare utilizzandone solo una Quindi siete voi a decidere quale intro mettere Nel prossimi video che farò ovviamente Ovviamente questa cosa volevo condividerla con voi Quindi scegliete pure Seconda cosa o anche terza alla fine Sono due cose unite Prima di tutto video diversi ragazzi Volevo chiedervi un pochettino se avevate voglia di vedere qualche nuovo video Con nuove sfide Magari torniamo indietro con dei titoli Tipo non lo so Vecchi code Code Modern Warfare 1 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 Black Ops World at War Io fino al Modern Warfare 1 ce li ho ragazzi Poi gli altri quelli 2 e 3 non ce li ho Perché ovviamente non ne ho trovato Magari da GameStop costano 20 euro che non li vale veramente Un'altra cosa che volevo dire ovviamente ragazzi Che noi siamo una famiglia Ovviamente su Youtube siamo una grande famiglia Di quasi 1700 persone Il curre ovviamente sono io in persona fisica Ma ci siete anche voi come idee Perché ogni giorno mi caricate sempre più anche per le sfide Per tutto quello che posso fare di video eccetera Ovviamente lo faccio per voi Quindi sono idee anche vostre E partecipate anche voi al mio lavoro di Youtuber Ragazzi sempre lavoro per modo di dire Infatti non avrebbe senso ragazzi Aprire un canale dove dentro non ci sono idee vostre Idee di voi iscritti Perché siete voi ovviamente la linfa vitale di un Youtuber Perché date idee nuove Alzate il morale del canale Perché alla fine un Youtuber vide anche del vostro Diciamo supporto I vostri mi piace I vostri commenti Aiutano gli Youtuber a fare sempre meglio nel proprio canale Creare video sempre migliori E cercare di conquistare altri iscritti ragazzi Non è una cosa semplice a crescere su Youtube in questo momento Perché è veramente difficile E con tutti i ragazzi emergenti I grandi Youtuber che ci sono sempre Che aiutano anche loro Quando è possibile ovviamente si aiutano a vicenda O comunque si aiutano piccoli Youtuber Che comunque si sono messi in mostra Sono stati veramente degni di nota E li aiutano a crescere Comunque sia da cura notte è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito vi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Se ovviamente avete apprezzato il mio video Mi fa veramente piacere aver raggiunto quasi 1600 iscritti Non so se stanotte vi supererò Oh boh vedremo E sono contentissimo di questi traguardi Queste emozioni che sto provando Comunque sia ogni giorno Nel vedere i vostri commenti Vedere gente nuova che si iscrive Vedere che apprezzano il mio lavoro Ovviamente qualche video di merda l'ho fatto sicuro Quello ragazzi è ovvio Ed obbligo Per uno Youtuber sbagliare Commettere degli errori nel proprio cammino Migliorare da quegli errori Quindi ragazzi Da cura notte è tutto Ci vediamo alla prossima Bella raga Ciao Grazie a tutti.